mamma mia la grandezza aumentano ragazzi sempre moriremo da stronzi oh una cassa che cassa green crate rare una cassa rara ma dove l'hai visto ho vinto un non so una cassa cassa e bottino ah si è vero green crate 3 si non ci avevo vinto niente ho vinto solo ogni cassa contiene uno di questi oggetti a personaggi poi cambiano anche personaggi bello anche questo tipo acquaio ok sarah bikini ultradare ecco personaggio ami mike sarah e wong io ero uomo prima questo è il gruppo ok allora io farei cinque art mi plenty e lasciamo casi ma i miei plant in me mi ricorda quando c'è stava la cosa così la vita bassa di ok ah volete tanto bufette schiaccia vediamo se riesco a vederti le narici del naso ti volevo cliccare e ho cliccato non so che cazzo ma che è a russia è un 2 però attenzione eh si ma fatti si può passare qua ma che cos'è le cose russe a non c'è niente qui non c'è niente ma mi sa che non possiamo passare infatti rossa le nostre sono le stanze stessa uscita ho capito ha toccato a te e l'ho sbagliato l'ho fatto partire direttamente io che ho toccato ok no non l'ho rotta che fa questo non ho capito però attenzione è una 1 è una 1 quali che è la 2 cosa c'è lì dentro cose brutte ok oh esplosa mamma mia si adesso dovrebbe essere basta cioè nel senso oh cazzo che mica è successo oh graffo via 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 ecco 2 ok graffo se viene avanti per morire per morire esatto ok ok si ma io mi sono rimesso il gatto davanti quindi non vedo niente carino è come queste qui sono i classici video sai quei gatti che si mettono davanti è bellissimo questo è il maschio il maschio è tremendo la femmina si è imparata non viene più sopra il computer lui si è buttato sulla testiera proprio allora e che cosa è successo eh dobbiamo riuscire a oh signore buongiorno prima un po' ci sto qua secondo me ci incula a sangue dai fermo le cuffie lol sì io ti ribadisco che prima un po' sto qua ci incula a sangue comunque premia l'altro cibo così ti furi e ti furi secondo me sì sì è fatto no non è vero non l'ho fatto uh allora no aprite qua non c'è niente c'è niente qua rano ok esistono anche stanze vuote cioè stanze in quanto pare ah perché siamo in uno siamo in uno uh c'è una scarpa sì però l'ha ben già presa ah ti serviva ok no 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 sì mi serviva forse Raffo sai che dobbiamo forse tornare indietro perché adesso siamo a uno non siamo vicini al tra è vero c'è ragione quindi mi sa che dobbiamo fare per forza quella di non voglio dire cazzate però mamma mamma dobbiamo andare per forza aspetta un po' no no questa è questa qua questa secondo me può essere oddio questa è strana che è questa c'è sta la scossa tipo non mi fida entrare c'è la acqua anche di shane eh non mi fida entrare qua dentro no passiamo da questa qua allora dobbiamo vedere questa lava niente eh questa altra ah no però però lì è uno poi aspetta questa non c'è niente eh però è uno eh no abbiamo finito qua siamo troppo eh sì troppa acqua eh ok no dobbiamo tornare indietro allora eh allora passi ah di qua benedetto di no perché infatti la facciamo anche la facciamo vedere che è rossa cos'è ma lo dovrebbe fare impostarlo che è rossa adesso e questa butta butta non mi dice niente giottirà la scarpa non mi fa niente non so che c'è l'acqua mi sembra che scenda non mi triccazzare infatti non mi fido però non stai perdendo tutto a posto ok allora aspetta facciamo questa qua certo non bisogna toccare i muri papa caputana oh gatto state fermo oddio raffa raffa di struttura oh cazzo vai qua 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 corri 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 ok a posto rimasto là sì eeeh ma qua poi dove vai eh aspetta che problema è quello principale secondo me dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare indietro ah ho capito come funziona questa una volta alla parte una volta all'altra ok torno indietro corri aspetta un attimo vado ok dovrebbe essere tipo qua aspetta no voglio uno no ok qua cibo qua cibo ci possiamo curare cibo? no comunque ci stiamo avvicinare bella questa che cazzo è? è la stanza dei poison ivy no eh tutto a posto tutto a posto ok eeeh eh eh problema è che tocca passata quella gialla la due no aspetta ma siamo di qua continuiamo da zero andiamo in questa qua che è zero che dovrebbe essere tecnicamente tranquilla cazzo no c'è il cibo ok continuiamo aspetta di qua c'è la testa di cavolo vero mi sembra si c'è la porta elettrica di lì quindi è qua per forza Raffo dobbiamo andare dobbiamo andare c'è uno scarpo altro cibo oh madonna quanto si mangio ok qual è che c'è ancora una scarpa se che serve si mi serve perché ormai me la sollevata ah che cazzo l'ho preso scusa ecco l'ho preso ho preso allora proviamo qua trovato l'uscita e allora no hai visto i piani 1 1 1 cioè il numero non c'entra niente è qualcosa la difficoltà da stare no non lo so forse è difficoltà la stanza sai che cos'è la cosa bella che stiamo facendo esattamente come facevano nel film nel cubo che cerchiamo di decifrare i numeri le cose bellissimo mi sembra di essere in lost cazzo esatto ma infatti ma infatti dicevano pure di far così sul primo ci stavano ricordi cose per terra non stanno adesso per i numeri però i numeri sono sempre gli stessi sì quindi in realtà non cambia molto eh no e quindi adesso eh vai a sentimento vai a sentimento questa qua mi sa tanto di ragni eh no tutto a posto vale e allora andiamo aspetta un po' ma all'angolo c'è qualcosa io me la prenderei eh cos'è per affare blu eh appunto puoi prenderla no ok no non è niente era una fregatura allora qua c'è l'abbiamo visto il primo del fuoco io che continua ad andare però in realtà dritto per dritto cazzo merda raffo raffo scappa 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 entra dentro no raffo scappa 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 io voglio alien che cacchio è alien no aiuto ma non si bucia quell'alien no e dove mettiamo questo adesso è un tarculo ce lo mettiamo cazzo aspetta il buco il buco il buco è il buco del culo cazzo è caduto è cascato da sotto su fa il culo viva replay ha ritorno dal culo dove sei arrivato quindi allora era qua era aspetta che era qua ora siamo andati prima oh gli sta il numero 4 lì eh oh guarda il bar cibo vieni qua vieni qua che c'è il cibo cazzo che cosa ci furiamo ah io voglio la scarpa là di fuori ma che bella sta cosa della scarpa di fuori ok vai 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 ok ah no mazza ah perché alcuni piatti danno più alcuni piatti di meno ok ma aspetta dove cazzo era il pro il ciccettino ok si era giù di là perfetto stava 4 vedi si è qua oh ma questo dove va pertanto il tipo non c'è più adesso perfetto ok cioè quel 4 significava quello voleva dire alien voleva dire il 4 ok ok e mo no quello lì è il 2 per forza quindi per forza questo questo se no quello dopo il 4 questo un ragno? no granchi c'hanno qualcosa in groppa si c'hanno qualcosa in groppa sembra tipo non è che sono tipo esplosivi oppure è armi tipo ma se possono prendere? no prova prova lanciargli un qualcosa aspetta no io lancio eh no ci prendiamo la scarpa a testa oh so bombe si ok ok so bombe ok se si ferma là e ti fa la bomba quindi devi scappare aspetta se si lancia la scarpa eh eh ok va va eh comunque son morti via la scarpa ripresa? no non l'ho preso aspetta non c'ho no non c'è sta che cazzo? oi oddio entra 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 ah però c'è la con te eh comunque non è vero? c'è la con me adesso? c'è il cibo c'è il cibo c'è il cibo io tu stai tranquillare con lui che c'è il cibo qua arrivo arrivo e qua e qua si bravo così corri 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 bella oh perfetto allora siamo a tre adesso sai cosa? quando uno apre una porta l'altro dovrebbe stare già dall'altra porta che se ci fosse un problema almeno riesce ad aprire già l'altra porta vero potrebbe essere una cosa tattica tu quella apri quella lì? aspetta che mi metto di qua che sta ok ok c'è qualcosa che spara a scossa però è a zero quella lì cioè non dovrebbe essere tutto sto danno eh però è a scossa magari smette anche qua c'è la scossa anche qua no non sta a smette aspetta ah si aspetta ah ho capito si alzano su le cose anche qua c'è la scossa però graffo anche qui c'è la scossa guarda che strano è il cibo come è? aspetta questo è proprio filo spinato qua questa però abbiamo ancora forse è più facile questa lo sai perché è quella dell'altra però abbiamo anche l'aspetta questa c'è niente buona prendi anche c'è anche una scarpa se vuoi lì eh sì perché vi manca va con tutte e due finite bella ho finite le scarpe aspetta questa qua mi espira ok ah ancora con l'angolo così ok aspetta un secondo prego voglio vedere questo un attimo orca troppo che bello arrivo roffo che bello cazzo c'è Sharon aspetta che cos'è c'è Sharon di Dragon Ball guarda oddio cioè praticamente sputa fuoco e piscia lava oh ma che figo è fatti figata ma hanno visto delle cose fighe su questo sì sì infatti un secondo c'erano un po' di meno però il secondo era più o meno così uguale ok facciamo come allora andiamo giù di qua easy eh di qua dritto sì oh cazzo ma questo che minchia boh so solo che so solo che questa è inutile andata qua perché tanto è un po' mappa vediamo un po' allora eh sì è è bordo mappa questo eh mi sa che dobbiamo fare la stanza quella che dicevi te sai eh sì è bordo mappa questo eh aspetta l'uscita dal nuovo piano dove oddio l'omelefante no di nuovo ma mi dice che ho trovato l'uscita occhio raffo ma sei andato nella parte dove c'è il drago oh cazzo sì tre termo a posto vai ok oddio no l'ho riperto quella sì ho visto che è da parte esci non c'è a me ho sbagliato aspetta di qua quindi no vai aiuto eh qua ci sono quelle elettriche però cioè dobbiamo per forza andare a messare in una di quelle elettriche sai però perché mi ha detto Van Helsing è uscita ha trovato l'uscita del nuovo piano eh infatti perché secondo me non lo so ha visto il messaggio di prima con qualche tasto non lo so cioè da mani è finito allora ci t'ho lasciato ok grazie allora questa qui dicevamo prima che era tranquilla abbastanza ah insomma o dritto o a sinistra ma in mezzo fa male no no ok è semplice allora cazzo cibo 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 a tre aia vabbè non ho fatto niente la scossa però guarda dai bella mi ha scolto solo dieci ok una altra scarpa buono allora ho tutti due sì ho tutti due allora ci abbiamo solamente da andare in due possiamo andare decilità secondo me secondo me è questa vai questa qua ma questa che cazzo c'è brutto no la dai no no la scossa ok ora troviamo questo ho trovato il piano ho trovato il piano sì aspetta ma c'è stata la scarpa qua dentro forse madonna le capociate si ma è fatta le capociate la madoscana e adesso è muoce io direi qua a destra così vai con questa brutto però possiamo vedere che c'è di là guarda che c'è scoppiato cercare armato c'è il karma quindi potremmo in realtà potevamo passare dal karma armato cazzo ah no è vero perché c'è la mitraglietta poi dopo quindi niente allora di qua niente ah quella niente è aperta di là ci stanno le palle di là di starcare armato io ho perso le scarpe ho finito le scarpe fermo 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 sì sì bella vai ciao bello perfetto di qua ci dovrebbe essere una scarpa qua dentro in teoria no niente e ma andiamo sempre dritti vai prova vogliamo vedere che cazzo c'è ah ora non c'è la scarpa fuoco minchia già così appena entri così questo qui è un po' però è una cosa che vibra c'è una cosa che oscilla sì però vediamo questa no questa è più fattibile è quella di prima oh c'è la scarpa è quella di prima no attento in mezzo che cazzo è no merda ah non mi ha fatto niente però no ti eleva 10 ti eleva poco no no mi hanno dato poco niente allora aspetta continuiamo lì continuiamo in quella zona lì che cazzo è successo ok all'angolo non mi viene non mi prende ok se li metti all'angoli no aspetta ho capito facciamo vedere vai cazzo uh cazzo wow what a luck oddio mi ha spinto dentro no no mi ha spinto dentro no aspetta c'è un momento di tensione emotiva c'è molta tensione io mi ha spinto dentro un coso c'è sta tipo no ma non puoi respawnare oddio il drago che ne me lo fa fare però posso vedere te ok c'è un drago ma che figo quella lì cos'era la fare di rubik il cubo di rubik un cubo si un cubo un cubo allora se tu guardi se schiacci M tu vedi la mappa adesso perché alcune cose le ho guardate io tutte quelle gialle non c'entra gatto levati da mezzo a gatto hai finito levati basta vai che bello io non ne la faccio quell'altra sta qua sopra invece via che bello allora quindi allora 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 facciamo eh entra in giù io sai entra in giù sicuro che non puoi respawnare no ce l'ho provato ah forse puoi respawnare se io trovo il piano rispotarsi prova in giù di lì ma ce l'ho le scarpe si una si sprecata no invece vai no perfetto allora provo ad andare eh si giù di lì brava cazzo ah per fortuna però attenzione puoi andare a tutto intorno a te infatti allora questa non è l'uscita quella non è l'uscita no quella potrebbe essere quella laggiù potrebbe essere uscita in teoria sai però non ti da neanche oddio che figata che figata le calamite così i feri di cavallo bello aspetta aspetta raffa raffa un altro caso tuo c'è una una scarpa no l'altro lato ah eccola buono allora guarda un po della della e della c'è niente ah però qui c'è sta qui c'è no aspetta all'aspetta della questa e dritto per dritto c'ho la 1 ti lascio un'altra 1 sì però secondo me potrebbe essere che tu adesso passi a questa collaterale e poi dopo c'hai la zero lì a piano bella questa mamma mia bellissima cioè potrei potrei pensare di andare alla parte sinistra ma riesci sì sì ci riesci ma ha spinto qualcosa dentro ok raffo allora sì vai subito in quella ah come quella di prima ma qua è tutto chiuso raffo devi entrare indietro ah è il vento no sono entrato dovevo entrare ragazzi raffo ci lascia forse no forse no vai raffo crediamo in te nel nome tuo naruto naruto un cazzo madonna che ciocco che ti ho tirato che ciocco che ti ho tirato 25800 punti trappola 11 stanze 31 annaggia la miseria no ragazzi non vi lasceremo così quindi faremo l'ultima sempre a questo livello sempre a questa grandezza perché sì ultimo ultimo sì questo è difficile come cacchio fai però è figo sì sì o se no facciamo facciamo proprio quell'estrema tipo vabbè come grandezza no ma no va bene anche questa qua dai perché comunque questa qui non l'abbiamo vinta non l'abbiamo vinta infatti impegnatia comunque poi massimo ragazzi fateci sapere a proposito devi fare che entri anche te perché sei a zero ancora di vita perché mi sa che devi respawnare eh mi sta connected to game lobby eccolo ok ragazzi fateci sapere intanto nei commenti se vi piace il gioco oh sei uscito ti ha fatto uscire però stavolta boh aspetta ti rigruppo no problem dicevo ragazzi fateci sapere ma Raffo se volete altre partite naturalmente su Half Dead sia su youtube che magari anche sul canale di Raffo non c'è problema anche su non c'è o youtube di Raffo o twitch di Raffo o il mio twitch come volete voi fateci sapere se volete altre partite assolutamente perché è divertente insomma secondo me ci sta tutto anzi poi se qualcuno volesse pure giocare con noi magari scrive pure nei commenti diciamo io gioco con voi diciamo no gioia con noi ci vedrei bene ci vedrei bene putra sta giocare su questo gioco qua anche perché ci servono le scarpe quindi più scarpe siamo meglio sia ok Raffo qua siamo abbastanza tranquilli aspetta no aspetta io la direi la scarpa qua dentro dai lancio io aspetta lancio io ok non c'è un pizzo perfetto ok ahia sta mamma qua dove andiamo e mi dovete poi andare ah ok dritto dritto ancora dritto si ok ahia ma spinto che cazzo che cos'è quello fuori lì oddio ma Raffo mi dicono a vedere bellissimo c'è un guanto da box aspetta ho visto ho visto più o meno no che cazzo faccio anche io perché lancio le scarpe mie ok va lì e poi puoi andare allora sembra che c'è un motorino anni 70 dietro la cavoccia oddio che è sta roba cos'è sta sta roba che cacchio è un labirinto è un labirinto è un labirinto fico no non è non è un labirinto si è un labirinto occhio oh ok ma penso che puoi chiudere le valvole possibile no ahia ahia no e donna eh per forza di qua oh cazzo sono andato i dati di qua ok cazzo bella questa oh quest'altra è pulita eh no raffo no no era pulita questa mia ma che cazzo ci fanno i pipistrelli i pipistrelli ma perché i pipistrelli oddio ma porco due ma il destino è che questa qua non riusciamo a completarla aspetta era il signore il signore il signore il signore grazie mettiamoci a prega mettiamoci a segno secondo me questo è l'inventore del club perché è tipo tipo solo enigmista adesso non è che faccio spoiler perché sennò chi non ha visto solo enigmista dai sono troppi anni sono passati che praticamente lui sta in mezzo al gioco comunque io andrei no di qua no c'è anche una scarpa di mattina ce le già due quindi va bene ce ne ho due sì e ole ok quella può andare bene quella può andare bene no ah gas che cazzo ma forse ho un gas congelante probabilmente bolla ottimo bravo raffo brutta brutta no è strumento a zero tra l'altro questa qua sì eh ti ho un po' vedo una volta sì però c'è c'è niente voglio andare voglio andare a questa qua all'angolo questa qua quindi c'è passo o da qua vabbè da qua visto che stavo no quella lì dove sono nato io prima che sono morto ma chi è questo sto motorino ma chi è oddio ma che cazzo ma che cazzo è quello lì è stato un motorino ma era già era già già di stare morso cazzo c'è stato lo che è il motorino oddio l'uomo allefante no te prego l'uomo col motorino fagli qualcosa ciaccalo non lo so ciaccalo è bellissimo ciaccalo mettilo sotto te prego lo sto con la col motorino ti fa danno ti fa danno quando l'uomo col motorino ti ha fatto danno fumo fumo aspetta questo ma che è questo no questo no ma è quello che devo saltare sui vetri ci stanno i vetri oddio oddio i vetri tipo ma 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 ti immagini questa è l'uscita cioè aspetta guarda solente un secondo dietro di te l'altra stanza qua dietro di te perché non so perché c'è un sentore prima di perquari è zero no non vorrei che fosse proprio quella da angolo al massimo cibo cibo bene secondo me no però potrebbe essere tipo quella bastardata te la metti proprio da angolo eh può essere ah c'era tutte e due scarpe può essere può essere giusto così per sfizio no tanto non è l'uscita quindi niente quindi niente lascia perdere ok vai ragazzi squid game vai raffo vai eh mi sa per forza almeno che non passo no lì si sta l'uomo con il motorino con quell'altro oddio forse è più facile quello destra o sinistra no mamma ma eh destra grande dio io farei ancora a destra però tu vai a sinistra non c'è la stessa decita tipo ansia se sto aspettando no grande grande raffo no ma non è che sempre a destra raffo però l'ho provato pensavo 11.100 tu 8.400 trappole 5 e stanze 12 c'è sta la squid game qua a mezzo bellissimo bellissimo ragazzi allora ragazzi lo sapete come al solito sotto trovate naturalmente in descrizione anche il canale di raffo sia di youtube che di twitch e quindi iscrivetevi su entrambi anzi su 3 perché c'è anche il terzo quello lì dove fai anche creative diciamo giusto che fai anche la parte diciamo adesso ho unito tutto raffo games e basta raffo games su twitch e raffo games su youtube cioè è proprio definitivamente cambiato sicuramente allora quindi ragazzi scrivetevi sia sul canale di youtube di raffo sia su twitch naturalmente e grazie ancora tantissimo raffo per aver fatto squid game stasera con me grazie a te per l'invito perché mi sono divertito un botto tanto 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 replicheremo replicheremo ragazzi perché con raffo non è finita qua la 5x5x5x5 dobbiamo prima o poi farla forza dai va bene ragazzi allora alla prossima ciao bella